il miglioramento personale non è relativo al contesto finanziario solamente a quello intendo ma anzi molte volte il fatto di poter progredire finanziariamente è anche legato a quanto le nostre conoscenze siano approfondite o specializzate in determinati ambiti si può dire ad esempio che io lo scorso anno a 44 anni ho deciso di diventare un educatore finanziario aef ma non mi sono fermato qui ora mi sono anche iscritto all'università in svezia seguimi e ti spiego come perché se ti interessa potresti anche iscriverti tu ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché come dicevo prima educatore finanziario aef ed autore del libro da meno 35 mila zero in 18 mesi libro del quale trovi qui sotto il link nel caso tu lo voglia acquistare dove ti vado a raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole come menzionavo trovi il link sia la per la versione cartacea che per quella versione kindle qui sotto nel video ogni anno alma laurea e pubblica un rapporto su quelle che sono le migliori lauree per trovare lavoro cioè quelle che danno maggiori possibilità di trovare lavoro più velocemente e per cui più facilmente per il report chiuso riguardanti i dati del 2022 a parità di condizioni i risultati sono i seguenti per parlare dei primi cinque posti quelli più papabili o palpabili informatica e tecnologia ICT 95.6% ingegneria industriale e dell'informazione 94.8% architettura ingegneria civile 93.6% economia 91.6% e scientifico 89.4% al di là di cosa si voglia effettivamente studiare formarsi in continuazione e magari a livello universitario può essere un ottimo metodo per aumentare il nostro valore nel mondo del lavoro e anche per aumentare le nostre competenze per rivenderci come liberi professionisti a volte i costi però possono bloccare le buone intenzioni ed anche optando per le università telematiche dove lì purtroppo si possono tagliare alcuni costi per esempio essere residenti in una città lontana universitaria magari quelle in questione quelle che più ci interessa che però può impattare economicamente ogni tasca ma se cerchi e hai voglia di formarti ci sono moltissime modalità di formazione anche gratuite ad esempio Corsera che propone sia corsi gratuiti che a pagamento oppure l'MIT il Massachusetts Institute of Technology che propone gratuitamente tutte le sue lezioni in maniera gratuita ma che ovviamente non ti dà poi la possibilità di poterti laureare a meno che tu non voglia e possa pagare le tasse per poter sostenere i vari esami io ho seguito un'altra via se come hai capito dal titolo mi sono iscritto all'università in realtà non un corso di l'area completo o un master perché non avrei tempo o almeno adesso ce l'ho ma poi te lo dirò in uno short relativo ma ha una serie di corsi singoli in particolare quello che inizierò a breve è presso la Linkopings University in Svezia il titolo del corso è English for Negotiation and Meeting Skills che sarebbe in inglese per capacità di negoziazioni e riunioni un corso breve di soli 5 crediti formativi ma non il primo che faccio pur avendo un inglese avanzato sia per studi che per esperienze di lavoro all'estero quasi ogni 11 anni in paesi dove la prima lingua è l'inglese non mi voglio mai fermare credo che sia molto importante per me ma in generale morire con un libro in mano a cada questo a 45 anni o a 95 anni non importa voglio morire imparando e voglio morire umilmente consapevole che non sarò mai in grado di poter imparare tutto quello che vorrei credo che sia l'unico modo per restituire alla società un'alternativa o un nuovo modo per migliorarsi ed iscrivendomi a questo ulteriore cosso non mi sembrava di aver parlato mai della fantastica a mio parere formazione che viene fornita nel nord Europa dovete sapere che per noi cittadini europei qualsiasi corso di laurea nel nord Europa soprattutto in Svezia ma anche in Danimarca Finlandia e Norvegia e credo anche in Islanda beh tutta la formazione è completamente gratuita o in alcune nazioni si pagano delle ridicole tasse di iscrizioni annuali e basta hai sentito bene puoi fare un master all'università di Stoccolma e pagare 0 euro ma mi dirai ma io mica parlo svedese ma perché io ti sembro uno che parla lo svedese già parlo poco l'italiano conosco il crotonese e l'inglese per cui ti farà piacere sapere che moltissimi dei corsi che vengono gestiti in Svezia sono anche fatti tutti completamente in lingua inglese quando l'ho scoperto io tanti anni fa nel 2010 mi si è aperto il mondo all'epoca conoscevo già l'inglese a un livello di B2 che il minimo necessario per poter accedervi per cui bisognava solo comprovarlo e feci il testo Eiffel come certificazione della lingua che è quello per la lingua americana in pratica e la comunicazione direttamente con l'ente delle iscrizioni universitarie svedese che può essere consultato preva registrazione all'indirizzo che ti lascio adesso che è www.universityadmissions.se ovviamente oltre alla lingua inglese ma mi sembra chiaro questo bisogna comprovare il fatto che si possieda un diploma di scuola media superiore ma questo mi sembra ovvio all'epoca ho dovuto fare tradurre in maniera giurata sia il mio diploma che le pagelle dei cinque anni di studi ma parlo di e le geologiche fa come per sapere sono vecchio del 2010 ed è molto probabile che molti aspetti siano ora informatizzati arrivati a questo però ti chiederai come faccio ad andare a vivere lì non ci vai perché i corsi molti di questi corsi come quello che ho selezionato io sono a livello universitario ma sono anche tenuti tutti online ed inglese e una piccola parte delle video lezioni sono registrate per cui non hai bisogno di seguirle live ma guardarle come si fa nelle varie università telematiche online questo offre vantaggi soprattutto su come gestire il proprio tempo e sapete quanto il tempo e la suggestione sia vitale per me dai minuti cerca dei corsi si possono selezionare di fare visualizzare solo i corsi online e poi presenta anche un piccolo box in cui si seleziona corsi senza nessun incontro o lezione fisica in live che sia obbligatoria e io ho scelto proprio questi corsi che devo menzionare sono tutti a numero chiuso per cui non è detto che si venga ammessi o selezionati infatti nella pagina studente si possono vedere tutte le application fatte quelle rifiutate quelle in corso quelle accettate e quelle per le quali si è stati messi in riserve per cui nel caso in cui qualche studente rinunciasse al posto assegnato in quel corso o non volesse più portare avanti il corso beh si scalerebbe la classifica o la graduatoria se vogliamo dirla in italiano di ammissione io sono anche in coda per financial economics ed english for digital marketers ed invece per il semestre primaverile quello che verrà per international economics e come dicevo non mi fermerò mai non mi voglio fermare preferisco come menzionavo morire povero ma ricco dentro che sta pieno di soldi e non capire una bene amata mazza di niente bene se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo di supportarmi veramente con pochissimo lasciando un bel pollice in su per farmi crescere su questa piattaforma e oltretutto anche per darmi soddisfazione per far capire che tutti questi corsi che faccio stanno portando dei frutti a te costa un attimo ma per me come puoi ben capire significa il mondo se poi sono su questo canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che tu non possa rischiare di perdere nessun contenuto successivo bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci in un prossimo video e a una prossima lezione ciao a presto ciao a presto